Siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque. Servizio di diretta streaming e podcasting di Bivaradio.it A cura della testata giornalistica euroregionegnews.eu Io vi chiedo subito un applauso all'avvocato Ferrero perché che un po' di diritto anglosassone si infili dentro il diritto romano e italiano è veramente incredibile. Io non faccio intervento, non devo vendervi nulla come ho già accennato prima, quindi non parlo di quello che fa Bivaradio e di quello che potrebbe fare per voi, sappiate che comunque lo sappiamo fare e là ci sono i biglietti da visita e al buffet se qualcuno può farci delle domande siamo pronti. Vi dico anche che c'è qui in sala un'altra azienda che era una nostra concorrente ma guardando avanti abbiamo fatto una rete d'impresa con lei per cui siamo in grado di dare servizi con tanto di conto economico, con business plan cioè obiettivi da raggiungere investimenti da fare in comunicazione per svuotamenti di magazzino non si chiede l'ancidina, però non ne parlo. Allora ringraziamo tutti i intervenuti quindi i relatori, il professor Fulio Pressacco, il dottore Applausi, il professor Alberto Filosa e l'avvocato Carlo Ferrero con Fapi per aver organizzato tutto questo per i nostri clienti perché con Fapi è organizzato a favore dei nostri clienti ringrazio naturalmente gli sponsor, in primis io print nelle cartoline che avete in mano ci sono delle cartoline che vi prego di compilare poi c'è un'una che noi metteremo qui, le infilate e dopo il buffet faremo un'estrazione e si vincono due biglietti per una partita dell'Udinese manager club significa che andiamo nei posti belli quindi ringraziamo gli open per questa creativa idea, questa simpatica idea gli open da concessionario Xerox, un'azienda giovane fatta da giovani credetemi che questi sono da ammirare, che hanno fatto un escalation in pochi anni l'altro sponsor è Tassotto e Max, quello studio fotografico che però è a 360 gradi ho detto che si occupa sia di matrimoni ma anche di foto di famiglia, foto di bambini corsi di fotografia e foto industriali e anche foto aere io ringrazio i miei collaboratori che chiaramente hanno pensato e poi creato, portato avanti eccetera eccetera, Gianfranco Biondi che lo vedete qua, un applauso poi i vari collaboratori Antonella Pitassi in segreteria che è laggiù in fondo, almeno prima l'ho visto un applauso, la mia famiglia, Marina e mia sorella Greta e sua figlia, che ha lavorato con me e io spero abbiate apprezzato quest'idea che anzi io un panellone o un torrone gli abbiamo dato un po' di conoscenza su come andare oltre a gestire un'impresa, cioè a mettere un po' da parte quello che si è creato o che la famiglia prima di noi aveva creato e purtroppo tante volte in questi ultimi anni abbiamo visto sparire in pochi mesi, lavori di decenni sparire in pochi mesi bene, vi ringrazio e vi aspetto tutti al buffet dopo aver compilato la cartolina che poi lascerete nell'urna, Greta per favore, eccola mettiamo qua, sì perché sennò se devono andare là per andare qua forse si perdono, quella lì è l'urna, le compilate, infilate lì e poi noi faremo le stazioni, bene, grazie e vi aspettiamo a fine siamo in diretta.com per moltiplicare i presenti, per farsi ascoltare ovunque servizio di diretta streaming e podcasting di bivaradio.it